selvaggia lucarelli risponde a katia ricciarelli non ho il potere di comandare selvaggia lucarelli non si fa attendere l'opinionista ha deciso di replicare alle parole di katia ricciarelli che nella puntata di ieri di domenica in l'aveva punzecchiata accusandola di essere l'unica ragione di una sua mancata partecipazione e ospitata a ballando con le stelle selvaggia ha risposto all'accusa per le rime lo specificando inoltre come l'ex soprano non sarebbe mai stata invitata da milly carlucci scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli a neanche 24 ore dalla sesta puntata andata in onda lo scorso sabato ieri a domenica in si è tornati a parlare di ballando con le stelle mara venner ha accolto in studio alcuni degli storici protagonisti dello show di milly carlucci da caroline smith a guillermo mariotto fino a alessandra mussolini e katia ricciarelli quest'ultima ha ricordato la sua esperienza ballando come presidente di giuria della quinta puntata della seconda edizione nell'ormai lontano 2005 l'ex soprano non è più tornata nello show di rai 1 né nelle vesti di ospite né in quelle di concorrente e stando alle sue parole ci sarebbe una motivazione ben precisa la replica di selvaggia lucarelli non si è fatta attendere ed è arrivata direttamente sui social la giornalista ha ironizzato sulle parole di ricciarelli e ha chiarito la sua versione dei fatti smentendo le affermazioni dell'ex cantante selvaggia scherzato sul suo potere e ha ribadito che ricciarelli non è mai stata invitata a partecipare come concorrente a ballando con le stelle la polemica tra le due protagoniste del mondo dello spettacolo sembra essere destinata a continuare restate aggiornati per scoprire